Siamo con Senales, un grazie veramente alla Val Senales per aver preparato, e al nostro team per aver preparato questa pista così in condizioni veramente ottime, anche se è un po' ghiacciata, per me al momento è un po' difficile ancora, però sono molto fiducioso e molto contento di come sta andando, il ginocchio risponde bene, vedremo poi la prossima settimana se sarò partenza poi a soldo o meno, intanto l'obiettivo è di migliorare ogni giorno e poi vedremo, chiaramente tutta la stagione sarà un po' diversa per questa questione del Covid, speriamo che possiamo partire tenendoci tutti quanti a certe regole, purtroppo i nostri fan dovranno guardare a fare il tifo da casa, ma sicuramente andremo forte e speriamo che poi tutto diventa un po' più tranquillo. Sì, naturalmente bisogna rispettare le regole di stanza di sicurezza, indossare le mascherine, devo dire che però possiamo comunque allenarci in tranquillità, quindi prepararci al meglio per la nuova stagione.